Il presidente del Lance Chieti Pescara Antonio Dintino fa il punto sul super bonus, una situazione difficile sia per le imprese che per i proprietari con i crediti ancora incagliati e sulla svendita della cessione dei crediti Lance chiede più controlli e una proroga di sei mesi per i cantieri come una legge quadro sugli sconti fiscali. C'è da dire poi che 900.000 case potrebbero restare fuori mercato. La situazione sul super bonus è che abbiamo ancora i crediti un po' diciamo incagliati, non c'è questa fluidità, le banche lo acquistano un po' col contagocce, sono arrivati un po' tutti quanti a coprire i plafondi e quindi come vendono un po' liquidano un po' di risorse e ricomprano. Questo fa sì che molte imprese hanno dei buoni bilanci ma non hanno ahimè purtroppo la liquidità e si riflette negativamente un po' su tutto il settore dell'edilizia perché poi non ci dimentichiamo che sono in partenza i lavori del PNRR e quindi abbiamo bisogno di imprese forti anche perché il tempo a disposizione per i lavori del PNRR non sono molti e quindi le imprese devono veramente fare anche uno sforzo anche lì importante per poter fare in due o tre anni quello che ci chiede un po' l'Europa per il lavoro del PNRR. D'altro canto prosegue d'intino la situazione drammatica anche per i proprietari. Perché molte imprese hanno abbandonato i cantieri non avendo la liquidità per proseguirli e ci ritroviamo in prossimità di una scadenza importante che è quella di fine anno dove magari oggi anche riprendendo immediatamente i lavori non si finiscono. Quindi anche lì una tematica molto importante ed è per questo che il lancio insieme al lancio nazionale, al lancio Abruzzo, al lancio Chieti Pescara chiedono con forza che venga prorogata almeno di sei mesi l'ultimazione di questi cantieri in modo tale da dare respira soprattutto alle imprese ma soprattutto a quei poveri proprietari, chiamiamoli così tra virgolette poveri, perché si ritrovano senza lavoro e purtroppo senza casa. Tintino è perentorio poi sulla svendita della cessione dei crediti. Cioè che cosa succede? Che oggi c'è tanta offerta e poca domanda e quindi chi ha la possibilità di poter recuperare questi crediti fa delle offerte veramente io direi quasi da sciacallo. Stiamo parlando di 60-65 punti su 110, le imprese che ahimè si trovano un po' soffocate, bisogno di liquidità per pagare le proprie maestranze e i propri fornitori, magari si trovano costretti a dover cedere a questi prezzi. È uno sciacallaggio che noi condanniamo proprio fortemente e facciamo un appello al buon senso delle imprese sane che possono avere credito fiscale a fare sì il giusto guadagno ma non di strozzare le imprese che hanno bisogno di cedere. Faremo battaglia per far sì che dopo 25 anni di esperienze che super bonus la prossima legge che si appresta ad uscire, almeno nell'intenzione del governo, sia una legge buona per poter affrontare anche ciò che ci chiede l'Europa. Grazie.